Tre giovani agenti di polizia penitenziaria in servizio al carcere di Bellizzi sono da mercoledì ai domiciliari per aver favorito, secondo l'accusa, il pestaggio di un detenuto in una cella dell'istituto di pena. Una spedizione punitiva resa possibile a detta degli inquirenti dagli agenti in servizio nel reparto. Per coprire la vicenda avrebbero poi redatto una relazione di servizio che forniva una versione parziale lacunosa. A far scattare la denuncia che ha portato al provvedimento dell'autorità giudiziaria per i colleghi lo stesso comandante della polizia penitenziaria in servizio al momento dei fatti avvenuti all'inizio dell'anno. Il provvedimento del magistrato ipotizza i reati di lesioni in concorso e falsità materiale. I tre agenti avrebbero sia favorito l'aggressione di un detenuto nella cella che falsificato poi il contenuto della successiva relazione. La procura avrebbe accertato che i tre agenti lasciando la porta aperta di una cella avrebbero consentito ai cinque detenuti che scontavano pene relative alla loro partecipazione a organizzazioni criminali pugliesi di aggredire un detenuto che si trovava in una cella attigua. Una pioggia di pugni avrebbe tramortito l'uomo un esponente di primo piano della criminalità foggiana che aveva dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell'ospedale di Avellino. Le lesioni per l'uomo furono giudicate guaribili in 40 giorni. I cinque detenuti che avevano partecipato al blitz sono stati denunciati per lesioni.